Si chiama Giorgio Desideri. Ha vent'anni, fai meccanico quando capita. Un po' di sport l'ha fatto. Molto, carottaggio, giochi. Oh, il fucilato non sa neanche dove sta di casa. Ho costruito tutto grazie a lui. Il conversario è il sinistro vento. Lui cercherà di entrare con quello. Tu pari il colpo con questo braccio, entri spiegato allo stomaco e poi giù al volto. Non ti ricordi di me, eh? Damien? Quanto sei stato dentro? 18 anni, fratello. Devi cominciare a pensare un po' meno alle donne, eh? Che è successo tra voi due? Non te l'ha detto. Eravamo come fratello. Guarda di dritto il faccio. Carina! Livigine! Livigine coi fiocchi! Damien è in lotta col mondo e vuole far male alla gente. Ho garantito per te, sarei madre. Non lo faccio a te. Di qualsiasi cosa fosse, affrontare quello che chiedi. And the dude threaten to take my brother. Anah! Anah! Grazie.